E oggi che giorno è? Oggi è 9 gennaio 2022. Esattamente sono le 7.15, 7 in quattro è la medesima cosa, e 15 secondi. Quindi, io è vero che mi alzo presto, però tutti i giorni vado presto a letto. Leggere è una grande cosa, soprattutto a me mi rilascia a fare bene la salute e ci rende erotti, informati, si acquisisce cultura. Però non si finisce mai di imparare. Bene, questi sono i giornali, ho fatto un bel po' di giornalze, 24 ore, qui si vede il messaggero delle sedi, facciamo quello dell'asporto, mettiamo qui. Ma a parte che non è che mi sono realizzato adesso, è un bel po', una parte di giornali già li ho letto, eccoli qua, quindi questi li ho letto, mi sto cercando sui giornali, questi li ho letto, fammi mettere qua, camminiamo insieme, mappa da, sì, questo lo trovo neanche, 24 ore, gas, la regola del segreto, borse, 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 limon, borse, vivere industriali, imprese territori, vabbè, invece mi scambio le cose da legge. Comunque per leggere ci vuole passione, la passione al primo posto, se c'è la passione è bene, se non c'è, non c'è. Io ho passione in tutto, ho passione nel lavorare, nel leggere, nel fare le cose. Vabbè, comunque, buona giornata a tutti. Auguro una buona giornata, sinceramente, a tutti.